Quali sono le sensazioni positive? Siamo giudicati per i risultati, quindi magari abbiamo capito che dobbiamo mettere qualcosina in più sotto il punto di vista dell'agonismo senza però per questo lasciare l'obiettivo del gioco che rimane comunque un obiettivo importante per la ricerca della nostra prestazione. Vedo come lavoriamo in settimana, come prepariamo le partite e secondo me se troviamo quella continuità che fino adesso un po' ci è mancata rimarremo attaccati al vertice della classifica fino alla fine. Dal punto di vista personale mi chiedo sempre cosa posso fare in più, cosa posso fare per la squadra e quando il mister mi chiederà di entrare mi farò sempre trovare pronto, lavoro per questo. Grazie. Grazie.